Da quel momento cominciò per Eugénie la primavera dell'amore. Tutta l'anima di lei aveva seguito il regalo donato al cugino, e trovandosi ambedue complici di un medesimo segreto, si volgevano spesso lunghi sguardi di reciproca intelligenza, che rendevano in loro più forte ed intimo il sentimento scambievole, mettendoli insieme, per dire così, fuori della via normale. E non scusava forse il vincolo di parentela quella certa suavità della voce, quella timida tenerezza degli occhi? Così la giovanetta si compiaceva di addolcire le sofferenze di Charles con le gioie infantili di un affetto nascente, per la gentile somiglianza appunto che corre fra l'inizio dell'amore e quello della vita. Non si culla il bimbo con le dolci canzoni e con gli atti carezzevoli? E non gli si narrano storielle meravigliose che la sua mente mostrino aureo l'avvenire? Non si spiega innanzi a lui la speranza, le larghe ali radiose, e non versa egli a tratti lacrime di letizie e di dolore? Non mette forse il broncio, per ogni non nulla, per un mucchietto di pietruzze con cui vorrebbe costruire un edificio mobile, o per un mazzolino di fiori dimenticato appena colto? E non ha anche la febbre di profittar del tempo, di correre innanzi nella vita? Ecco dunque che l'amore è in noi una seconda metamorfosi, ed in Genie e Charles amore e fanciullezza si confusero. Fu il sorgere della passione con le più imprescindibili necessità sue, e che ancor più grato riuscì loro per il senso di melanconia che li dominava, e quell'amore, che si svolgeva in origine fra veli di lutto, parve meglio armonizzare con la semplicità provinciale della vecchia casa in rovina. Lo scambio di poche parole con la cugina accanto al pozzo nel cortile muto e tetro, O le lunghe soste, insieme nel giardinetto fino al tramonto, seduti su un banco ricoperto di musco, e affaccendati a dirsi mille inezie, o raccolti nella calma monastica gravante all'interno, rivelavano al giovane la santità dell'amore, poiché la sua grandama, la bella Annette, gliene aveva fatto conoscere solo le tempeste. Alla fiamma brichina vanitosa e brillante di Parigi, sottentrava ora in lui l'affetto puro e schietto. Le abitudini di quella casa non gli sembravano più ridicole come una volta. Fin dall'alba egli scendeva a parlare per alcuni minuti con Eugenie, prima che il padre venisse a consegnarle provviste per il giorno, fuggendo lesto in giardino al suono dei passi di grandeggio per la scala, e nella colpa lieve di quel colloquio mattinale, ignoto alla mamma e tollerato da Nanon che fingeva di non accorgersene, sentirono entrambi il profumo del piacere proibito. Poi nel pomeriggio, quando lo zio si recava in campagna, egli sedeva tra la signora Grandè e la figlia, aiutandole a dipanare il filo e provando nuove dolcezze nel vederle al lavoro e nell'ascoltare il loro chiacchiericcio. Quella vita semplice, quasi monastica, che gli rivelava anime così nobili e solitarie, gli giunse al cuore. Aveva creduto a quei costumi impossibili in Francia, avendoli ammessi soltanto in Germania, o tutt'al più fiabescamente nei romanzi di Augusto Lafontaine. Ben presto gli scorse in Eugenie la personificazione della Margherita di Goethe, tranne il fallo e a poco a poco le sue parole e i suoi sguardi, ammaliarono la povera fanciulla, che si abbandonò fiduciosa e lieta all'onda dell'amore. Ella s'attaccava alla felicità improvvisa come il nuotatore afferra un ramo di salice per uscire dal fiume e posare sulla riva. Non di rado il pensiero del prossimo distacco piombava triste nella gioia delle ore fugaci, ogni piccolo incidente lo ricordava. Così, tre giorni prima della partenza, il giovane andò con lo zio al tribunale per sottoscrivere la rinunzia all'eredità paterna e passò da Mastro Crusciò per far redigere una procura a De Grasset e un'altra all'amico incaricato della vendita dei mobili. Poi si occupò del passaporto per l'estero e, quando infine ebbe da Parigi semplici abiti dal lutto, vendette a un sarto di Saumur quanto di inutile aveva nel guardaroba, il che fu specialmente approvato da papà Grandè. Bene, così deve comportarsi un uomo che passa il mare in cerca di fortuna, gli disse non appena lo vide vestito di un abito di panno nero comune. Benissimo! Non dubitate, signore, rispose Charles, ho il coraggio della situazione. Cos'è mai questo? chiese il vecchio con lo sguardo acceso alla vista di un pugno d'oro che il nipote gli tendeva. Sono i miei bottoni e gli anelli e tutte le bazzecole di qualche valore che ancora mi rimangono, ma, non conoscendo nessuno a Saumur, volevo pregarvi di comprarveli. No, zio, di indicarmi una persona onesta che... Date qui, vado di sopra a stimare tutto e vi dirò quel che vale fino all'ultimo centesimo. È oro di gioielli, quindi da 18 a 19 carati. Prese nella larga mano i gioielli e uscì. Cugina, disse Charles, permettetemi di offrirvi questi due bottoni. Con un nastro potrete formarne dei braccialetti, oggi in gran voga. Accetto ben volentieri, cugino, e la rispose con uno sguardo d'intelligenza. Zia, eccovi il ditale di mia madre che ho osservato sempre gelosamente, soggiunse il giovane nel presentare un grazioso ditale d'oro alla signora Grandet che da dieci anni si struggeva dal desiderio di averne uno. Non ci sono parole che valgano a ringraziarvi, nipote mio, disse la buona donna con gli occhi umidi di lacrime. La sera e la mattina io pregherò per voi con fervore speciale, e tu, genie mia, alla mia morte, serberai questo gioiello. In quel punto Grandet apriva la porta. Il valore esatto è di 989 franchi e 75 centesimi. Ma per non darvi il fastidio della vendita vi sborserò io il denaro. In lire. La parola in lire significa, a lungo le sponde della loira, che gli scudi di 6 lire vanno accettati per 6 franchi senza sconto. Non osavo proporvelo, rispose Charles, sebbene mi dispiacesse di vendere quei gioielli nella città dove abitate. La biancheria sudice aveva levata in casa, diceva Napoleone, e vi ringrazio perciò di tanta compiacenza. Il vignarolo si grattava l'orecchio, e vi fu qualche istante di silenzio. Poi il giovane riprese con uno sguardo inquieto, quasi timoroso di recare offesa. La cugina e la zia hanno accettato benignamente un piccolo mio ricordo, ed ora prego voi di gradire questi due bottoni da polsini che a me non servono. Mettendoli ripenserete a un povero giovane lontano, che non dimenticherà certo quelli che ormai costituiscono tutta la sua famiglia. Oh ragazzo mio, ragazzo mio, non bisogna poi spogliarsi così. E tu, moglie, cos'hai? Eh, un ditale d'oro. E tu, figliola? Guarda un po', dei fermagli di diamanti. Via, prendo io pure i bottoni, ragazzo, soggiunse stringendogli la mano. Ma mi permetterai di pagarti? Sì, di pagarti il viaggio fino alle Indie. Sì, voglio pagarti la traversata, tanto più che nella stima dei tuoi gioielli, vedi, ho calcolato soltanto il metallo e forse vi sarà qualcosa da guadagnare per la manifattura. Dunque è deciso, ti darò 1500 franchi lire che torrò in prestito da Crouchot, perché oggi come oggi non posso disporre di un quattrino, a meno che non venga a pagarmi per rotte che è in ritardo nell'affitto. A proposito, ci vado adesso. Prese il cappello, si mise i guanti ed uscì. Dunque, partirete? Morborò Eugénie con uno sguardo di tristezza mista d'ammirazione. È necessario, disse Charles chinando il capo. Benché da qualche giorno i modi e le parole del giovane dimostrassero una profonda mestizia, pure sembrava che gli traesse forza dagli obblighi assunti e non cedeva più alle espansioni del cordoglio. Il dimesso abito nero si adattava bene alla sua pallida e seria figura, e con le due donne, anch'esse in gramaglie, assiste poi nella chiesa parocchiale ad un requiem per l'anima di Guillaume Grandet. Alla seconda colazione gli giunsero lettere da Parigi. Come vanno, cugino, gli affari? Domandò la ragazza sottovoce. Non si domandano certe cose, figliuola, osservò il padre. Che diamine, ti metto io forse a parte degli affari miei? Ed allora perché ficchi il naso in quelli di tuo cugino? Lascialo stare quel ragazzo. Oh, ma non ho segreti io, protestò Charles. Ta, 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 nipote, imparerai fra breve che in commercio bisogna saper tenere a posto la lingua. Non appena i due innamorati furono soli in giardino, il giovane disse ad Eugénie, traendola a sedere accanto a lui sul vecchio banco all'ombra del noce, non m'ero sbagliato rivolgendomi ad Alphonse, egli ha regolato ogni cosa con lealtà e prudenza. Così non debbo più nulla a Parigi. Ha venduto i mobili e mi scrive di aver acquistato, per consiglio di un capitano di lungo corso, per 3.000 franchi di specialità europee che si smerciano con molto vantaggio nelle Indie. Ha diretto i colli a Nant, ov'è un bastimento in carico per Java. Fra cinque giorni bisognerà dirci addio, Eugénie. Forse per sempre, ma certo per lungo tempo, già che la scarsa merce e 10.000 franchi che ricevo da due amici sono un tenue principio. Potrò soltanto pensare al ritorno dopo vari anni, e quindi, cugina cara, non rischiate con la mia la vostra esistenza. Per me non è difficile l'ipotesi della morte, mentre a voi può capitare un ricco matrimonio. Ma mi amate? chiese Eugénie. Oh sì, sì, tanto. Egli rispose con la voce piena del sentimento che l'invadeva. Dunque aspetterò, Charles. Dio, il babbo è la finestra, esclamò respingendo il cugino che si avvicinava per abbracciarla. Corse paurosa nell'atrio, stette un attimo a piede la scala ed aprì la porta. Poi, confusa ed inconscia di quel che facesse, si cacciò nello stanzino della domestica, il punto più oscuro del corridoio, e là il giovane che l'aveva seguita la prese per mano traendola a sé, le cinse la vita col braccio, e la serrò contro il petto. Ogni sforzo di resistenza allora scomparve, ed ella porse dimentica le labbra al più puro, al più soave dei baci. «Oh, diletta Eugénie, un cugino va al meglio di un fratello e ti può sposare», disse Charles. «Così sia!» gridò Nanò spalancando la porta della sua topaia. Gli innamorati, sorpresi, scapparono in sala, ove la fanciulla tornò al lavoro, e il giovane si mise a leggere le litanie della Vergine nel libro di preghiera della signora Grandet. «Eh, concluse la domestica, sembra che tutti preghino!» Quando Charles ebbe annunziata la partenza, Grandet si dette un bel da fare perché credessero nel suo interessamento, e fu largo di quanto non gli costava nulla. Trovò che le casse da imballaggio si vendevano troppo care, e volle a forza costruirle egli stesso con vecchie tavole, levandosi di buon mattino per tagliarle, congiungerle, piallarle. Poi le fece trasportare lungo la loira, e le spedì, debitamente assicurate, a Nantes in tempo utile. Dopo quel bacio nel corridoio, le ore passavano per Genì con una rapidità spaventosa, e non di rado la saliva il desiderio di seguire il cugino. Spesso piangeva passeggiando nel giardinetto, e tutto le pareva angusto, il cortile, la casa e la città. E la spaziava sulla distesa immensa del mare. Finalmente giunse la vigilia della partenza. La mattina, mentre Grandè e la domestica erano fuori, fu collocata solennemente la preziosa scatola con i due ritratti nel solo cassetto del forziere che potesse chiudersi a chiave, e dove era la borsa vuota. Quando Eugénie si mise la chiave in seno, non ebbe il coraggio di proibire a Charles di deporre un bacio su quella custodia. Di qui non uscirà, amico mio. Ebbene, amor mio, vi sarà sempre anche il vostro cuore. Ah, Charles, non sta bene, e la osservò con lieve accento di rimprovero. Non siamo forse sposi, disse lui. Ho la tua parola, e tu accetta la mia. Entrambi ripeterono due volte. Tuo per sempre. E mai più schietta promessa fu scambiata sulla terra, poiché il candore della Vergine aveva santificato in quell'istante l'affetto di Charles. Il giorno dopo, la colazione fu triste, e la stessa Nonon, che poteva senza riguardi esprimere i propri sentimenti, nonostante il regalo avuto della famosa veste da camera a fiorami d'oro e di una croce alla Jeannette, aveva gli occhi pieni di lacrime. Oh, il povero signorino, che se ne va sul mare, Dio lo guidi! Alle dieci e mezzo, la famiglia intera uscì di casa per accompagnare il giovane fino alla diligenza di Nantes, e la domestica, dopo aver sguinzagliato il cane e chiuso il portone, volle portare lei la valigia. Tutti i merciaiuoli della vecchia strada erano sull'uscio delle botteghe a veder passare il piccolo gruppo. In piazza si unì anche Mastro Crusciò. Non piangere, genie, le disse piano la madre. Quando furono sulla porta dell'albergo, Grandet baciò Charles sulle guance. Voi partite, povero nipote, tornate ricco e troverete salvo l'onore di vostro padre. Ve l'assicuro io, Grandet, e allora dipenderà da voi. Ah, zio, che conforto sono per me queste parole nell'amarezza del distacco, è il più bel regalo che avreste potuto farmi. Egli aveva frainteso le parole da lui interrotte del vecchio bottaio. Sparse lacrime di riconoscenza sul volto color di rame dello zio, mentre la ragazza stringeva loro forte la mano. Solo il notaio sorrise della finezza di Grandet che gli aveva ben capito, e tutti e quattro rimasero vicino alla diligenza finché non si mosse. Poi, quando fu sparita sul ponte e il rumore neccheggiò lontano, il vignarolo gridò «Buon viaggio!» con tale accento che fu fortuna, lo disse soltanto Mastro Cruchot. Egenie e la madre si erano recate in un punto dove ancora si scorgeva la carrozza e sventolavano i fazzoletti. «Mamma!» esclamò la fanciulla quando non vide più il fazzoletto di Charles. «Come vorrei avere per un istante la potenza di Dio!» Grazie!